Eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty Due piccole comunicazioni, la prima oggi sarà in live tutto il giorno dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 19 e dalle 21 fino a notte fonda per provare al meglio l'Alfa 2 V2 che si è attivata ieri sera come vi avevo già anticipato con un giorno di anticipo, infatti i server li hanno aperti prima come era facilmente prevedibile Seconda comunicazione, nella live di oggi pomeriggio che va dalle 14 alle 19 regalerò dei codici per giocare quindi per iscrivervi alla beta chiusa, la Closed Beta di settembre praticamente di Modern Warfare I codici che vi regalerò saranno 5, li rilascerò durante la live di oggi pomeriggio però li potranno utilizzare anche chi gioca su PC, Xbox One però principalmente li consiglio perché ovviamente vuole giocare già a partire dal 12 su PS4 quindi poi vi aspetto questa mattina, oggi pomeriggio che vi regalo appunto i codici della beta e poi questa sera e ovviamente giocheremo insieme poi domani arriveranno altri codici beta, un piccolo regalo ragazzi per ringraziarvi del grande supporto che mi date ogni giorno Bene, piccola anteprima prima di iniziare il video su Modern Warfare ieri è arrivato un aggiornamento su Call of Duty Black Ops 4, la novità più eclatante è il depotenziamento della balestra la River C86 ieri è stata effettivamente depotenziata, ridotto all'accuratezza Nipfire, ridotta addirittura il contatore delle munizioni quindi passa da 6 a 2, quindi adesso è molto più difficile e ha molte meno munizioni da appunto mettere a disposizione finalmente ci vuole un depotenziamento appunto della balestra ieri si è attivato il download dell'Alpha, l'abbiamo seguito bene in live alle 19 spaccate, si è attivato all'interno del PlayStation Store ieri stava girando anche un'indiscrizione, vi farò sapere nei prossimi giorni se è vero oppure no dell'arrivo di un solo giorno di Alpha anche per Xbox One e PC è trapelata ieri all'ora di pranzo, vi farò sapere se prenderà piede oppure no comunque l'Alpha è stata resa disponibile ieri alle 19 rispetto appunto a quanto si aspettavano tutti delle ore 16-17 del rilascio come in Gran Bretagna il peso è di 35,788 GB in live abbiamo ipotizzato del fatto che potesse essere praticamente legata alla beta di settembre quindi che quest'Alpha contenisse anche i contenuti di settembre ma ieri Activision ha chiarito che l'Alpha e quindi il file dell'Alpha non è lo stesso della beta quindi a settembre sarà necessario fare un altro download quindi mi immagino già un pre-download almeno l'11 di settembre perché se sono 35,788 GB per un 2V2 mi immagino per la beta di settembre dove secondo le indiscrizioni troveremo un 10 contro 10 e un 20 contro 20 al momento le mappe disponibili sono soltanto 3 King Pine e Speedball tra oggi e domani attiveranno e saranno rese disponibili anche le due mancanti che avevo già annunciato la modalità Gunfight sarà giocabile anche nell'open beta appunto di settembre i server sono stati già aggiornati ieri sera alle 10 l'abbiamo visto in live e la cosa interessante è che gli sviluppatori hanno già rilasciato due aggiornamenti per migliorare appunto la stabilità dei server quindi una cosa molto ma molto interessante l'Alpha come stavo dicendo ieri è possibile giocarla su PlayStation 4 senza richiesta di pre-order del gioco senza richiesta del PlayStation Plus vi basterà avere una PS4 e ovviamente una connessione ad internet una cosa molto curiosa che ho scoperto ieri sera e fateci caso quando andate nelle impostazioni del party potremo vedere un numero massimo impostato a 20 giocatori non può essere che in questo weekend ragazzi ci rilasciano qualche bomba dell'ultimo minuto perché è molto strano impostare un party a 20 giocatori se possiamo giocare soltanto 2 contro 2 possiamo invitare i nostri amici quindi un nostro amico per fare il 2v2 al momento non esistono ancora le private esiste soltanto il matchmaking pubblico per giocare il livellamento anche è bloccato quindi rimarremo sempre a livello 1 sono state annunciate l'arrivo di nuove armi che arriveranno nel corso praticamente di questi giorni di alfa che vi ricordo durerà fino a domenica alle ore 19 ma quasi sicuramente sarà prolungata fino a lunedì alla stessa ora arriveranno le due mappe mancanti che avevo svelato e arriverà o arriveranno anche varianti di queste mappe 2v2 in versione notturna sempre in questi giorni ovviamente rimanete sintonizzati qui su youtube su telegram sulla community ps4 che abbiamo creato siamo quasi già in 300 e vi ringrazio perché ieri avete pubblicato una marea di informazioni all'interno della community ps4 amanti trattino basso code e mandatemi anche la richiesta per giocare insieme sempre amanti trattino basso code su ps4 e su twitch per non perdervi nessun aggiornamento sul mondo di call of duty qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate vi aspetto alle 9 per giocare insieme fino alla mezza alle 14 riprenderemo fino alle 19 con il rilascio di 5 codici beta da regalare ovviamente più veloci in chat e questa sera dalle 21 in poi